Momenti di panico a bordo della Discovery che domani deve rientrare. Un oggetto non identificato urta lo shuttle. L'inviata Monica Maggioni. La Discovery è in orbita per la sua ultima giornata. Domani missione conclusa. All'improvviso guardando fuori il comandante si accorge che un oggetto luminoso sembra aver urtato lo shuttle. Lo vedete, è questo. Queste sono immagini che arrivano dalla NASA. Allora a bordo si cerca immediatamente di capire che cosa è successo. E a terra cominciano le dirette televisive. Gli unici a non pensare che si possa trattare di uno scontro con un UFO sono gli astronauti a bordo. Loro sono scienziati. A terra è la prima ipotesi. Dopo pochi minuti però comincia la paura. Quella vera. La NASA fa sapere che si tratta di un pezzo dell'impiato di raffreddamento che si è staccato in volo. Non ci sono state collisioni, ma per tutti la dinamica ricorda troppo qualcosa già visto. La luce sinistra del Columbia che il primo febbraio 2003 esplode in volo mentre torna verso terra. aveva urtato giorni prima un pezzo staccatosi in fase di decollo. Questa volta la NASA rassicura. La Discovery può rientrare domani mattina. Per ora c'è solo quel pezzetto in orbita nel nulla. E il resto tutto sotto controllo.